Benvenuti su Gossip Italiano VIP. Prima di condividere le ultime notizie, vi chiediamo gentilmente di mostrarci il vostro supporto con un semplice, mi piace, a questo video e iscrivendovi al nostro canale. Questi gesti significano molto per noi. Nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana, abbiamo recentemente assistito a un addio doloroso. Un talento poliedrico, noto come attore, regista e scrittore, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità artistica e culturale. Questo eclettico artista, che ha anche ricoperto il ruolo di assessore alla cultura nel comune di Sciacca, ha contribuito in modo significativo alla promozione di numerose iniziative culturali. La sua scomparsa è una perdita irrimediabile. È deceduto ieri all'età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia che ha minato la sua salute. Il suo percorso nel teatro è stato straordinario e ha catturato il cuore del pubblico e l'attenzione di importanti produttori cinematografici e televisivi. Tra i suoi successi ricordiamo la sua partecipazione alla celebre serie del commissario Montalbano e il suo contributo a importanti produzioni cinematografiche, tra cui quelle di Ficarra e Picone. Oltre alla sua carriera artistica, aveva intrapreso con successo la scrittura di un romanzo basato sulla sua esperienza nell'amministrazione pubblica. La sua perdita rappresenta una grande lacuna nella cultura italiana, ma il suo prezioso contributo vivrà attraverso il suo lavoro e il suo spirito indomito. In questo momento di tristezza, vi invitiamo a condividere una preghiera o un messaggio di cordoglio per i suoi cari nei commenti qui sotto.